E' finita la scuola, e' finita la scuola, e' finita la scuola, e' finita la scuola La scuola sta per finire! E' maggio, ma probabilmente è maggio, che mese è? Tra poco finisce la scuola E ci dovremo preparare con il costume, con il salvagente per tuffarci e farci il bagno E oggi ragazzi, in questo video vi farò raccontare una storia di che cosa farò il prossimo anno Salve carissimi, benvenuti in un altro nuovo video cacciaonastico, sono Angelillo Francesco, detto The Cacciao Channel E benvenuti in questo nuovissimo video cacciaonastico Come direte che voi vi annoiate a fare i compiti, vi annoiate se vi danno tantissime verifiche di matematica Tantissime verifiche e vi rimanete svogliati? No! Tra poco finisce tutto ragazzi e non vi preoccupate Oggi ragazzi, siamo fortunati perchè è maggio, perchè la scuola, io devo finire la scuola il 9 di giugno Perchè il 9 di giugno non ci voglio venire a scuola perchè sento un caldo bestiame Quindi rimango a casa E dunque ragazzi, vi racconto un po' di storytelling riguardo il prossimo anno di scuola E dopo la scuola faccio il liceo ovviamente Prima di iniziare questo video vi invito a lasciarmi tantissimi bei like Ma aspetta, aspetta, aspetta Un po' di pubblicità Se voi non sapete nulla e andate alle scuole classiche vi aiuterà Grandi Scuole Ma voi direte che cos'è Grandi Scuole? Beh, Grandi Scuole è una scuola dove tu dovrai andare e dovrai fare tutti i compiti veramente alla perfezione Vi annoiate a scuola? Beh, c'è Grandi Scuole Condattate Grandi Scuole Così andate là e fate i compiti con questo bellissimo palazzo di Grandi Scuole Perchè voi non avete mai visto Grandi Scuole? Io mai, perchè io vado al liceo scolastico oppure ci vado a Grandi Scuole al posto del liceo Beh, non so cosa decidere Quindi se voi avete, se voi vi annoiate a scuola chiamate Grandi Scuole e andate là e vi ritrovate una bella, mi dico bella, mi dico bella perfezione Dopo il messaggio promozionale cominciamo il video, buona visione Probabilmente il 9 di giugno finisce la scuola Perchè probabilmente ragazzi, io che cosa devo fare dopo la scuola? Vabbè, ovviamente dobbiamo aspettare le pagele perchè io da piccolo, da piccolo avevo avuto tantissimi voti Alla prima inglese 8, geografia 9, storia 9, educazione fisica 9, italiano 9, matematica 9, religione 9, anche alla seconda, la terza, la quarta e la quinta Io raga ero veramente come Edmond Elefante di Peppa Pig che lui è un sapientino Quei due non avrebbero mai potuto incontrarsi E tu come fai a saperlo? Perchè sono un sapientino Probabilmente io quando devo andare alla terza media Io ho 14 anni e mi sto anche cambiando la voce perchè prima quando nel 2021 di novembre ero prima un bambino E parlavo salve carissimi benvenuti in questo nuovo video cacciaonastico Perchè ci avevo 9 anni e mezzo perchè io andavo alla quinta B perchè ero piccolino di certo Ma ora adesso ho 13 anni e sto diventando un ragazzo E probabilmente ragazzi che cosa si possono tenere? I pupazzi perchè io sono un collezionista I soprammobili, la PS4, la Nintendo, la scacchiera e altre altre cose Allora secondo me probabilmente quando io devo andare al terzo anno di scuola Io frequento la Giuseppe Ungaretti E io ero il gruppo D Io ho fatto la seconda D E ora vedremo al terzo anno, terza D Probabilmente io cambio voce E guardate quando io vado alla terza D mi crescono i baffi E sto per diventare un ragazzo di college E poi probabilmente quando io devo andare al liceo Probabilmente di sicuro io mi vesto come un mataconazzo Mi compro delle robe su Shane E mi compro anche degli occhiali veramente bellissimi che voi non avete visto Oppure mi metto questi Scrivete nei commenti o questi o quelli nuovi di Shane Scusate la tosse, mannaggia la mia tosse Quando le ragazze mi ammirano con questo look Di sicuro loro mi guardano, mi abbracciano Mi chiedono vuoi essere il mio fidanzato Beh, lo aspettiamo per il prossimo anno Ma voi gli direte De Caccio Channel a che liceo dovrebbe andare? Il liceo artistico no? Io vado al liceo linguistico Perché so imparare il francese, l'inglese, lo spagnolo, la cina E anche l'italiano e anche altre lingue Ad esempio, io so i numeri in spagnolo Uno, dos, tres, quattro, cinco, seis, siete, ocho, nue, diez Avete mai visto uno che sa i numeri in spagnolo? Se questo video raggiunge tantissimi like Andrò a contare i numeri in diverse lingue Promesso, eh Ma voi vi chiederete Lui è veramente bravo a frequentare molte lingue Perché io nella pagela della prima media Avevo voti altissimi E alcuni della mia classe sono stati bocciati Perché non sanno di nulla però E sono andati in altre classi E sono degli amici che mi vogliono tantissimo bene Di sicuro alla seconda Dio ci andrò benissimo Perché io so il francese e l'inglese Di sicuro alla terza media Arriva a porsi un professore di spagnolo Però pensiamo al lato positivo Allora, quando io devo andare a liceo linguistico Mi concio da un ragazzo di college Cambio i capelli Io non dovrò avere i capelli ricci Perché se io me li pettino Tutti mi prendono in giro Con questa acconciatura Perché assomiglio testa di cocco di Ned Scuola di sopravvivenza Quindi da oggi in poi Farò il nuovo Me del reboot Ma vi ricordate? The Caccio Channel del reboot Come dovrebbe essere? Tutto una sorpresa Lo scoprirete A liceo linguistico Ma però Dopo il liceo linguistico Devo trovarmi un lavoro Per guadagnare soldi Perché io Ho una mansarda Ma Se guadagno soldi La mia mansarda Diventa la mia casetta E posso riprendere là i video Bene ragazzi Il video di oggi Si conclude qui Vi racconto Questa esperienza Storytelling Riguardo di che cosa Devo fare il prossimo anno Prima di andare a liceo Per ragazzi Il video di oggi Si conclude qui Ciao ciao